bella raga del vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo nuovo video ho la formazione ufficiale del napoli che giocherà oggi alle 15 contro legge la formazione che il vostro grande capitano napoli vi aveva appiamente annunciato sarà proprio così 4 4 2 con ospina in porta difensori centrali con i balì maximovic a destra giocherà malcuit a sinistra gulan i due centrocampisti centrali saranno elmas ed fabio ruiz i due esterni di centrocampo zilischi insigne e il tante d'attacco tutto pesante milic l'oriente una formazione così che a me piace molto speriamo in una grande prestazione del nostro napoli vincente e convincente mi piace molto questa attacca vi ricordo che dalle ore 15 per la prima volta farò la live della partita del napoli sulla quale praticamente farò una sorta di radio cronaca della partita che sto guardando e se riuscirò vi leggerò qualche vostro messaggio mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale forza napoli siamo pronti siamo carichi vi aspetto alle ore 15 per la live di lecce napoli sempre forza napoli ci vediamo dopo ciao